Annabella Pascale, tenuta di Artimino. Albin Italy con una novità. Sì, buongiorno. La nostra novità è l'Iris 2015. Con l'Iris vogliamo raccontare in un modo un po' diverso la nostra storia. Artimino è una tenuta molto antica, è stata creata dalla famiglia dei Medici. Infatti noi produciamo Chianti di OCG e Carmignano di OCG. Con l'Iris racconteremo il territorio, principalmente col Cabernet Sauvignon, che si trova nella nostra zona dal 1700, quindi non è un vitigno internazionale da noi, anzi si chiamava Uva Francesca. Quindi 50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot per ammorbidirlo e 18 mesi di affinamento in barricchio. Quindi una rivalutazione del territorio, un completamento di gamma, un ampliamento di gamma. Un ampliamento di gamma, perché noi teniamo molto le nostre DOCG, ma avevamo voglia anche di un Super Tuscar, come si chiamano oggi, ma dove farlo se non ad Artimino, questa antica storia del Cabernet.